Grossa prestazione da parte tua, un gol sferato prima e poi un assist decisivo per chiudere la partita. Sì, sono molto contento per la mia prestazione ma soprattutto per quella della squadra. Era importante vincere questa sera e l'abbiamo fatto fornendo un'ottima prestazione. Quanto è importante questa stagione per te di apprendistato dove magari non stai giocando tanto però sei a fianco di grandissimi campioni, magari per il tuo futuro alla Juventus? Sicuramente è molto importante perché da giocatori come Pirlo, Vidal, Marchisio, Pazienza comunque tutti i miei compagni soprattutto di reparto io sto apprendendo molto e cerco di farmi trovare pronto dall'allenatore quando mi chiama in causa.